Il prossimo 12 luglio, l'influencer Clizia in Corvaia convolerà nozze con Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. La relazione tra Clizia e Paolo è nata nel 2020 durante la loro partecipazione a un reality show su Canale 5. Nonostante Clizia sia stata squalificata anticipatamente, l'amore tra i due è fiorito, portandoli a diventare genitori di Gabriele nel 2022. Clizia, 43 anni, era già madre di Nina, avuta dal suo ex marito Francesco Sarcina, frontman delle vibrazioni. Clizia ha rivelato che le nozze si terranno al mare, ma non in Sicilia, con una lista di invitati che varia tra 80 e 100 persone. Dopo il matrimonio i neosposi partiranno per un viaggio di nozze alle Maldive. Nel frattempo Clizia ha celebrato il suo addio al nubilato insieme alla sorella Nicole, anch'essa concorrente del grande fratello Vip e fidanzata con Edoardo Tavassi, a festeggiare con loro un gruppo di amiche tra cui Rita Rusic. In famiglia la gioia per l'evento è accompagnata dalla speranza per la guarigione di Eleonora Giorgi, recentemente operata per un tumore al pancreas.